Da questa mattina a Teramo ha un nuovo sindaco, Gian Guido D'Alberto. Stamattina c'è stata la proclamazione degli eletti. È stato un momento commovente. Lei stesso ha detto, rivolgendosi alla cittadinanza, scusatemi se non riesco a trattenere le emozioni in un momento così importante. Sì, un'emozione straordinaria. Perché le sensazioni sono state meravigliose, sono giorni di grande entusiasmo. L'abbraccio di questa mattina nella sala di Poggio è stato il culmine che consacra l'ufficialità con la proclamazione. Adesso scattano i tempi e i termini per l'insediamento del Consiglio Comunale e quindi anche l'adempimento relativo all'Aggiunta. Lei nel suo discorso ha parlato del bene collettivo, ha detto che i cittadini devono essere sempre messi al centro dell'azione amministrativa. Sì, bisogna ricoperare assolutamente questo rapporto di fiducia con i cittadini. Il dato dell'astenzionismo, anche nel turno di ballottaggio, comunque è un dato preoccupante e che ci dà un segnale molto chiaro che il Comune va aperto, va aperto alla condivisione, alla partecipazione. Perché la nostra città, se vuole rinascere, le istituzioni devono capire che si deve rinascere tutti insieme. La comunità terramana deve essere coinvolta nelle scelte perché va riprogrammata, ripianificata un'idea di città e va fatta in modo condiviso e partecipato. Il bene della città viene prima di qualsiasi altro interesse. Stamattina, come dicevamo, la proclamazione di tutti gli eletti, non solo ovviamente del Sindaco, anche dei consiglieri comunali. Dunque da questa mattina c'è anche ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale di Teramo. In molti hanno notato l'assenza nei banchi dell'opposizione di diversi consiglieri eletti. Sì, francamente non ne conosco le ragioni, quindi non mi sento assolutamente di fare valutazioni. Io comunque ho ringraziato tutti i miei competitors alla carica di Sindaco, quindi la Giorgia Donato Morra e poi tutti gli altri. Comunque questa mattina mi risulta ci sia stata proprio formalmente l'apertura con la comunicazione degli atti. Però, ripeto, non ne conosco le motivazioni, quindi non mi sento di fare valutazioni. E anzi, mi rivolgo a loro proprio per tornare a lanciare questo segnale di condivisioni sulle scelte fondamentali con cui saremo chiamati a confrontarci da domani in poi. Il Sindaco sta già lavorando alla Giunta? Io sto lavorando, non abbiamo ancora avviato il dialogo con le altre forze, con gli altri gruppi. Dovremmo lavorare adesso con celerità, ma anche con una responsabilità, la giusta dose anche di responsabilità nella composizione dell'Aggiunta. I nomi in mente ce li ha? Qualcosa in mente ho, ma vanno condivisi con tutte le forze. Comunque le scelte saranno condivise, fermo restando poi ovviamente, che è una decisione ultima, aspetta a me, ma saranno tutte scelte assolutamente condivise per il bene della città. Grazie. Grazie.